Dopo l'ottima stagione culminata con la finale nel triangolare playoff purtroppo persa nelle ultime gare l'Orsogna si accinge a partecipare ad un nuovo campionato di prima categoria con rinnovato entusiasmo con diverse novità a partire dalla guida tecnica ma anche con nuovi e importanti acquisti come ci sottolinea l'ha detto stampa Luca Smigliani. Sì è detto bene Antò e quest'anno cerchiamo di ripartire anche se sono andati via diverse pedine fondamentali ma comunque sia il calcio si sa che si riesce a plasmare sempre su nuovi stimoli sono rientati diversi giocatori che facevano campionati differenti, sono rientati due della promozione che stavano a fare è tornato un nostro ex capitano Nicola Auriti e oltre che è tornato pure il mister è stato con noi quattro anni fa quindi siamo messi bene, una rosa giovane come ho detto prima ci sono sette fuori quota abbiamo su una rosa di 22, un'età media di 24 anni, i ragazzi si divertono, l'ambiente è positivo è sempre stato così Orsonia, io dico sempre ragazzi che l'isola è felice da noi, si gioca a pallone, ci si diverte già dal martedì sono sempre numerosi allenamenti, quest'anno sono due settimane di preparazione sempre con il sorriso sulla bocca da parte tutti quanti, la società punta a fare bene anche quest'anno vogliamo migliorare un attimo la situazione che abbiamo fatto l'anno scorso, vediamo un po' come va Siamo con il tecnico dell'Orsonia Paolo Dorazio che torna nella squadra del suo paese dopo qualche anno di assenza dopo alterne e anche fortunate esperienze in altre squadre, è un'esperienza che lui aspettava perché allenare nel proprio paese se da un lato porrà presentare un ostacolo in alcune scelte che si può fare durante l'anno però dall'altro è sempre più entusiasmante Sì effettivamente è così, è il mio paese dove vivo, dove sono nato calcisticamente prima come giocatore ho iniziato i primi passi da allenatore proprio all'Orsonia con il settore giovanile poi ho avuto anche la possibilità di allenare qualche anno fa in prima categoria e adesso ci riproviamo perché quest'anno l'Orsonia compie 50 anni c'è grande entusiasmo in paese, c'è una società per alcuni aspetti con gli inserimenti di alcune persone che hanno fatto parte di una società vecchia quindi c'è un mix di cose che lascia ben sperare Dicevamo anche con Luca Smigliani, ci sono diverse novità in organico qualche acquisto abbastanza recente, importante, ce ne vuoi parlare? Sì, stiamo cercando di completare l'organico un organico molto ampio, fatto di giocatori di grande capacità tecniche e tattiche l'ultimo arrivato che è Di Paolo abbiamo preso Stenta, abbiamo preso Rosino poi c'è un gruppo che già era forte e consolidato che l'anno scorso ha fatto benissimo abbiamo preso un portiere di esperienza come Forlani insomma c'è sicuramente una buona base per poter sperare di fare un campionato d'alta classifica